Allora, Anna, sei pronta? Allora, Carmena, sei pronta? Scusa, sei pronta? Vado a fare una panoramica su tutte le donne dietro, aspiranti, spose, allora vai via voi, va bene, è stata un'altra vestita, va bene, un attimo il tecnico, sei pronto? Vado a me lo dai, un senso tecnico, facciamo un applauso al nostro tecnico, allora la scossa, fra qualche secondo farai l'attimo del bouquet, cosa farai l'attimo del bouquet? Vai, ferma, fermi, ti diamo di farla ora, bravo, 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 vai, 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 sulle mani, sulle mani, dai, sempre questa, quella cosa lì, chi non alza le mani, non scupa le mani, brava, ok, dai, vedi, non è bella, pronta? Pronti? Uno, due, tre, via! Oh, le mani, grazie! Vai! E va! E va! E va! E va! E va, e va, e va, e va, e va, e va, ripetiamo? Ragazzi, vi dovete far sentire, a finire, a finire, a finire, a finire, a finire, Gabriella, oggi sposi, benissimo, ok, grazie, un applauso agli sposi, un applauso, sposi, un bacio, 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 bravi!